Bene, vi vedi ancora attivi, non vi siete trasformati in stato di pietra, molto bene, allora potete saltare ancora, questa è dedicata a tutti questi crazy, belli, metallari, brutti, sporchi, cattivi, che non c'avete un minimo di skill, proprio belli, terra, terra, questo per voi è dei motore no class. Grazie a tutti. 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 Grazie!